Aveva raccolto migliaia di file tra fotografie e video pedopornografici e in uno di questi è stato riconosciuto mentre abusa sessualmente di una bambina di 8 anni. Per questo un uomo che lavora in un esercizio commerciale a Firenze è ora in carcere dopo essere stato arrestato dalla polizia postale a seguito di indagini coordinate dalla procura di Firenze. Gli accertamenti sono partiti dalla segnalazione di una ONG statunitense che lo ha individuato come fruitore di materiale pedopornografico in spazi condivisi su internet. Durante una perquisizione la polizia ha scoperto il materiale e da un successivo esame è emersa anche la violenza sessuale contro la bambina. In particolare ci sarebbe un file video dove si vede l'uomo che ha rapporti sessuali con la bambina la quale farebbe parte di un circuito di relazioni personali dello stesso arrestato. Secondo quanto appreso le indagini stanno proseguendo anche riguardo a due possibili altre vittime degli abusi sessuali dell'uomo. Per l'arrestato le accuse sono di violenza sessuale su minori e detenzione di materiale pedopornografico.